E questa mattina Telesud ha accolto il Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, che ha fatto visita alla nostra emittente in occasione di un'intervista realizzata da Wolli Cammareri, che andrà in onda giovedì per una puntata di Agora alle 23 e poi replica alle 23. L'occasione valsa anche per un momento di preghiera, condivisa. Andiamola ad ascoltare. Giusto ieri il Papa Francesco ha incontrato dirigenti e giornalisti di TV 2000, rivolgendo loro un appello a non commettere i tre peccati in cui può incappare il comunicatore, disinformazione, calunnia e quindi mancanza della verità. Oggi invece lei arriva qui nella redazione di Telesud e incontra i giornalisti trapanesi. Qual è l'appello che rivolge loro e come possono condurre al meglio la loro missione? Ma intanto il Papa è un maestro della comunicazione, quindi vale la pena un po' ascoltarlo e cercare di capire queste priorità che gli ha lanciato, insomma, cioè quella della verità, della coerenza, insomma, della informazione professionale, non quella aziendale, insomma, no? Perché poi alla fine tutto sembra che diventa un comunicare notizie utili al padrone di turno. ma è un maestro della comunicazione anche perché egli lega fortemente la comunicazione anche alla situazione di difficoltà che vivono gli ultimi. Egli parla del comunicatore autentico come di un buon samaritano che sa fermarsi di fronte alle situazioni di grave disagio, sa anche mettere la sua faccia nel senso di coinvolgersi responsabilmente di fronte alle situazioni che ci sono e ha il coraggio di farle conoscere con dentro una capacità di coinvolgere la società per risolvere quei problemi concreti. Per me la grandezza di Papa Francesco, sia per quello che ha detto ieri, ma per quello che dice continuamente è proprio questa, insomma, no? lega la comunicazione alle persone, perciò dice svegliate le parole accostandole alle persone. Se poi un comunicatore ha anche una fede, una speranza cristiana, è sicuramente in condizione di attingere al pozzo, direi alla sorgente del Vangelo, questa capacità di avvicinamento. Egli parla di una mistica dell'avvicinamento addirittura, di una pedagogia dell'avvicinamento alle persone. Voi usate, noi usiamo, dico tutti quelli che fanno uso dei media, usiamo una realtà che rischia di farci slittare verso il virtuale o verso quello che, insomma, o è convenzionale, o è spettacolare, o serve a obiettivi che non sono quelli della gente che grida aiuto, che chiede di essere ascoltata.